Ciao a tutti! Oggi testeremo Duke Nukem WarpOS Allora, ho utilizzato per lo schermo e altro la versione 68k Allora, questa è la versione 68k e questa è la versione WarpOS che purtroppo è solo in versione beta Allora, ho dovuto aggiungere anche dei buffers, sennò caricava troppo, oltre che a fare l'assegnazione Ok Questa è la risoluzione Dato che è in versione beta, purtroppo il sonoro non c'è Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!